Buonasera Roma, questo è il sesto agorà questa sera, stiamo dando tutto, stiamo girando per il Lazio, per tutta l'Italia per portare un messaggio di speranza e per combattere una battaglia contro la disinformazione di questi ultimi 20 anni e a giudicare dalle presenze direi che ci stiamo anche riuscendo molto molto bene. Alla faccia del signor Renzi che l'altro giorno è andato in televisione, oggi ci è andato dei buffoni, l'altro giorno invece è andato in televisione e ha detto quelli del 5 Stelle non li conosce nessuno, beh forse non li conosce nessuno dei salotti radical chic, non li conosce nessuno delle televisioni ma ci conoscono molto bene i cittadini italiani e le piazze italiane e loro invece sono conosciuti da tutte le procure d'Italia e speriamo presto anche dalle patrie galere per chi si è appropriato delle nostre risorse. Mi chiamo Fabio Massimo Castaldo, ho 28 anni, sono praticante avvocato qui a Roma e finalmente questa sera lo posso dire perché c'è anche il nono municipio, sono a casa. Credo che chi mi ha preceduto vi abbia parlato anche dei trattati capestro che abbiamo firmato quindi non mi dilungherò oltre, voglio toccare un altro tema però che è fondamentale. L'Europa come occasione, l'Europa come opportunità, un'opportunità che in questi ultimi 20 anni non si è voluto saper cogliere. Perché? Perché non è più accettabile che questo Paese abbia dei fondi strutturali, 43,9 miliardi di euro e ci ritroviamo a fine programmazione dei sette anni nel 2013 che sono stati usati neanche per il 52%, per negligenza e palese incapacità della pubblica amministrazione della classe politica che la dovrebbe spronare invece ad agire in tal senso. Non è più accettabile che ci siano fondi per la cultura che vengono poi utilizzati per finanziare il concerto di Elton John a Napoli mentre le mura di Pompei crollano un patrimonio unico in tutta l'umanità che non sappiamo valorizzare. Non è più accettabile che ci siano i nostri migliorimenti, i nostri migliori ricercatori in grado all'estero di depositare brevetti con un valore di 4 miliardi di euro l'anno persi per questo Paese, persi per l'occupazione, persi per le possibilità di rilancio dei nostri territori e ci siano 28 miliardi di euro sul piatto per la prossima programmazione 2020 e ancora non si sa come l'Italia cercherà di metterci in condizione di poterli utilizzare. Noi stiamo combattendo questa battaglia da cittadini perché siamo null'altro che cittadini, è l'unico titolo che ci riconosciamo, ce lo dà la Costituzione e lotteremo con le unghie e con i denti per continuarla a difendere da chi quest'anno ha provato a stuprare il 138. Noi siamo saliti sui tetti e saremmo saliti anche sulle Alpi, anche sulle Alpi per difenderla. Allora cosa faremo noi per questi fondi? Cosa faremo per utilizzarli meglio? Molto semplicemente faremo informazione, andremo lì e con pazienza certosina studieremo i bandi, vi spiegheremo come partecipare, lo spiegheremo a tutte le nostre amministrazioni comunali. Oggi ho visto quattro comuni, quattro comuni che spero molto presto saranno a Cinque Stelle, Marino, Ciampino, Fonte Nuova, scusate Fonte Nuova ieri, Guidonia e poi ho visto anche l'ultimo qual era? Tivoli che è stato veramente strepitoso, piazze piene, mentre quegli banchetti del PD erano vuoti, chissà come mai. Forse perché noi le campagne ce le autofinanziamo da soli con 100 euro e qualcun altro invece prova a autofinanziarsele con 80 euro finti, finti del Monopoli. Visto che poi se vai a vedere bene e ti aumento le accise, ti aumento la tares e ti levo le detrazioni per il cognizio a carico, forse ne abbiamo persi i 20. In Europa faremo la stessa identica cosa che hanno fatto Alessandro, Roberta, Paola e tutti gli altri parlamentari del Movimento Cinque Stelle quest'anno. Andremo a lavorare. Questo che questi signori non hanno fatto in questi anni. Andate a vedere nel 2012 le gradatorie delle assenze. Come mai siamo sempre agli ultimi posti? Forse perché il signor Mastella aveva troppo da fare sui territori. E si vede infatti il dissesto idrogeologico come l'hanno risolto da quelle parti. Forse perché il signor De Mita era troppo impegnato. Forse perché Barbara Matera aveva da fare, la Zanicchia aveva da fare. Ecco, queste persone purtroppo sono tutte in fonda alla classifica. Noi invece lotteremo per essere sempre sopra e per essere una presenza costante. Perché nel Movimento Cinque Stelle un attivista, un consigliere municipale, un consigliere comunale o un parlamentare non fa differenza. Siamo solo punti terminali della stessa rete. E i prossimi europarlamentari e parlamentari sono le persone di fronte a me in questo momento. Cioè voi. Massimo due mandati vuol dire quello. Questa città potrebbe campare di turismo se solo volesse. E c'erano dei fondi per il turismo, ci sono ancora. Noi li dobbiamo utilizzare in modo cosciente e consapevole. E lo spiegheremo, lo spiegheremo sui nostri siti, creeremo un portale. Faremo informazione, daremo comunicazione. Ma non è che lo facciamo per qualsiasi cosa. Io ho 28 anni, ho studiato all'estero, potevo andarmene all'estero. Invece sto qui insieme a tutti gli altri, dei ragazzi fantastici, per un solo e semplice motivo. Perché noi vogliamo cambiare questo paese per non dover cambiare paese. Vogliamo restare qui, qui vogliamo crescere la nostra famiglia, qui vogliamo crescere i nostri figli. E vogliamo anche tornare a testa alta in Europa, riprenderci la nostra dignità. Per riprendercela c'è solo una cosa da fare. Queste votazioni europee non sono soltanto delle elezioni europee. Sono le elezioni più determinanti e politiche della nostra vita. Queste elezioni ci diranno se il Movimento 5 Stelle finalmente si avvierà a essere forza di governo per questa nazione. E riportarla sul timone e sul percorso giusto. Il 25 maggio abbiamo in mano una semplice matita. Ma questa matita è l'arma più potente, la più potente che abbiate mai immaginato. Con questa matita cancelliamo 20 anni di menefreghismo, di falsa informazione. 20 anni in cui siamo stati dimenticati dalle istituzioni. E ci andiamo a riprendere il nostro futuro. Chiudo in un modo un po' particolare. Chiudo ringraziando la mia seconda famiglia, il nono municipio di Roma. E lo chiudo ringraziandolo non per questa campagna elettorale, ma per quello che ha saputo darmi in questi anni. Perché ha saputo spronarmi, a volte anche tirarmi le orecchie se è necessario. Ha saputo farmi crescere e consigliarmi. Ed ha saputo starmi vicino nel momento più difficile della mia vita, durante la malattia di mio padre. Questo vuol dire essere una comunità. Il 25 maggio non vi dico che vinciamo noi. Perché questa piazza vi dice già che noi abbiamo già vinto.